Ciao ragazzi! Are you ready for another easy Italian listening practice? I'm going to describe a word in Italian only using easy Italian vocabulary and your job is to guess what the word is. And if you need to you can turn on the subtitles so that you can follow along with me. Let's go, andiamo! La parola di oggi è una persona. Usiamo questa parola per indicare una persona che sta imparando qualcosa. Di solito a scuola, ma anche fuori dalla scuola. Per imparare questa persona segue delle lezioni con un insegnante. Che cos'è? What is it? As always the game continues in the comments below, so leave me a comment with your guess and I'm going to reply with my feedback. See you in the comments! Ci vediamo nei commenti! Ciao! Ciao!